Ma come si mette i pantaloni e un cavallo? Così o così? Beh, a quanto pare è così. Come si mette la cravatta o una giraffa? Così o così? Questa non la so nemmeno io, scrivila tu nei commenti. E come si mette una t-shirt o una sedia? Così o così? Te lo dico io come? Così! È uscito finalmente il mio primo merch! Compra subito la t-shirt dal link sul mio profilo e mettila alla tua sedia di casa taggandomi ovunque. Affrettati però perché sono in edizione limitata e stanno già finendo, maledizione!